Nella trasmissione di ieri erroneamente abbiamo dato per arrestato l'architetto Massimo Esposito invece ci riferivamo all'architetto Massimo Stroscio che sta ai domiciliari già dei primi di agosto. Tutta la questione è nata per un mero errore materiale. Ovviamente vi scuso con l'amico architetto Massimo Esposito di questo errore involontario e ripeto si trattava dell'architetto Massimo Stroscio.